Ecco qui finalmente vedremo come finirà tutta la missione e la missione fai e la sottomissione fai attenzione dove whitewall manda gente a caso nei forti da presidiare che verranno abbattuti noi ovviamente dobbiamo sistemare tutto mentre lui si prende le medaglie vediamo decidete non avete molto tempo a lui se ne resta lì bravo e voi bene i tuoi uomini bravo ma ha sempre ha sempre quel fucile in mano bishop Il problema è che vuoi fucile non sono più da tempo E ho dato al foster dell'idioto Il foster è nubet Nubet Non so come pronunciarlo perché Perché ho sta arma qui Perché ho sta No ti prego No ti prego No E ora me ne devo stare qui Ma cosa sono ma sono come No sono come le cimici sono da per tu Come ha fatto a vedermi quello lì in fondo Ma scusa Ma scusa Non lo vedo io come fa a vedermi lui E ora si che siamo Fregati A saltare un forte Come si fa qui Ovviamente E corro E corro Bravo Devo essere silenzioso Fa uno sp... Due secondi dopo fa uno scatto Anche la porta piano Bravo Bravo Porta sbagliata Allora è qui vicino Quindi non dobbiamo Fare Cazzate Bene Io non so Mutuo Tazzi Quella Quella era una bella cartonata Tipo non c'era una palla Me la sono solo immaginata Che ho visto Oh parca Sono solo una porta Non devi guardarmi Insomma ho una Ho una maledetta voglia Di prendere il fucile E sparare a tutti Il problema è che muoio dopo due secondi E non è bello da vedere Beh Su Non è bello da vedere E avere qualche dubbio Ora vede il cadavere Se non sbaglio Ecco Tac Si fa male un'accettata lì Carabina Bene No 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 Tu non hai visto niente E mai vedrai niente Ma quanti notti era Ma vabbè ma qui Sono come Sono come dei cimici Cavolo Che lingua è Io non ho mai sentito Un turco che urla Urla in questo modo Modo arrabbiato Quante Quanti Quante allarmi Sto sventando Non lo so E Gli ho fatto Tac Gli ho fatto No no L'ho circunnavigato Gwe Gwe No Questa qua è quella pesante Carabina Carabina per la vita Tac 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 No No Please No Non hai sentito niente Non hai sentito niente Va bene Va avanti Continua ad andare Proprio sul più bello Che pecca Si Classico Gli ho tirato un'accettata Ed è morto Pensavo ci fosse qualcuno E stiamo assaltando veramente un forte da soli No 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 Quello ci hai visti quindi identifichiamolo col binocolo così magari Identifichiamoli tutti col binocolo quanti maledetti sono Allora adesso sappiamo che se avvertiamo uno siamo fottuti Al cento per cento perché abbiamo sia ci vengono addosso sia da dietro sia da davanti quindi Quindi siamo veramente fregati Quello non è un nemico è solamente un pagliume di roba Dov'è l'ingresso di questo cazzo di posto? È quello che si chiedono tutti Per me non hanno trovato nemmeno loro E questo è il problema lo stanno ancora cercando Io non sento Ma perché tutti Perché tutti i nemici devono avere Una lingua arrabbiata Boh Avanti No no dimmi che Dimmi che è proprio lì In bella vista Lingua arrabbiata E dopo Subito dopo un'esplosione Quindi Quindi Dai 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 che si entra da qui Spero che gli hanno anche tipo un'accoglienza con Ora del tè alle 5 e roba simile E su Tu non ero un nemico Ah no è un albero Era un albero Era lo slender Che peccato Esisteva già il tempo Ma che che Entra così Io ti ammazzo E ammazziamo i feriti Sono la soluzione più rapida del mondo Eh ma siamo i feriti Io ti copro allora Ma Bishop ci sono ancora Farò finta di aver catturato il forte per distrarli Va bene Dopo aver oltrepassato le linee alleate Lancia un bengala Allora mi ne andrò Va bene Va bene dai Sberva Ora ripiega il cappello Perché? Ora hai proprio l'aspetto Di un australiano Figlio Ho scomprato una cosa Sei tu il vero padre E scappa E due secondi dopo scappa in Messico E dove No Dove poterci appreso anche i feriti Ma non puoi metterli No No Io non ho ancora capito cosa devo fare Nel dubbio Sparo a tutti Cos'è questo qui? Mantieni per cogliere palla Sì Che bella la palla Dove devo passare? Cavolo Devi dirmi che devo fare No è Esca Esca ora lo aspettiamo piano piano sperando che non mi parla un colpo prima o poi ciò che fucile spara granate in caso avanti si così vicino più vicino più vicino più vicino più vicino più ma le palle erano davvero così affilate però cura non c'è nessuno siamo estremamente ma va ecco perché c'è qualcuno non so mi sembra di aver capito così io e se ne accorto ma noi siamo dietro un cavolo ribaltato quindi non se ne accorgerà mai mai che sei tu io sono la ruota discorata a vediamo un po come fatto un caro da sotto interessante dove non se ne accorto non urlare per nessun motivo che è il bravo non penso che poter così affilato le parlare se non non tornino nel tempo per vedere se non parla è affilata o meno qua no 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 è stato un sono sordo moto morte quanto manca quanto manca quanto manca ok che ha detto no ma forno maledetto te spero che tu abbia detto in senso ironico perché io non ho intenzione di abbassarli tutti è davvero un forte intero dobbiamo combattere io non combatto un forte intero almeno no sento bucci la cecchina divertente anche quello quanti sono avanti scatta 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 prossimo prossimo due colpi non è poco ma neanche tanto ti ho visto a te dato che ti ho segnato sul mio mirino non so perché mi sembra segnare rosso forse devo uscire lo no proiettili proiettili che passano ovunque allora stando fermi qui e stanno fermi qui non si risolta però ricarico intanto è ok prossima fermata sberlata via via perché io che eccetera sto portando quando lavoro vado 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 non ce la faccio sì c'erano ce la faccio facciamo fosse un una sco un punto moto boboro adesso puttana questo almerino siamo a cavallo se almerino siamo a cavallo 5 che ho visto come lei lei mancato hai mancato stabilizza perfetto possiamo andare ok c'è molto sempre avvicinato però per la distanza media no per la distanza media c'è ancora qui c'è ancora questo mp di ciò sperimentale ma non sarebbe ma un secondo no spara tre colpi loro mette adesso mi trovo questo che il forte qui è qui il forte ok questo qua forte apri la porta e non spaventarmi più doppio colpo bene direi che è finita mica beh oh grazie beh beh sì in realtà lo sono cosa non ho beccato bar fa chiudis ha giusto dai che va un po più qua un po più cosa che va bene ma ci mancava solo lancia fiamme ora davanti dov'è dov'è da qui lo vedo se arriva avanti è morto così non è morto bravo vai ad inferno letteralmente guarda perché io non posso usare non sappiamo il loro sito ecco perché perché t'affermo lì lo manca non posso averlo mancato non posso averlo beh beh questo qui il prossimo dai che devo finire proiettili fatto che no ancora questa qui ma fa schifo sta qua no beh in caso in caso ciao no 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 così si va meglio secondo che ricarico la scacciacani benissimo ma di me mi dimentico sempre con la baionetta perché a vero non conta con carabina questa qua è la migliore forse forse non fosse per il mirino piccolissimo che ha ora in questo forte devo usare per forza il fucile a pompa no no mi dispiace si so che sto mirando sbagliato però va bene andiamo 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 non mi interessa non mi interessa come andrà a finire morto stiamo giù giù è esploso ma non mi è esploso addosso quindi sono contento sono felice morto prossimo forte novi no bet come cazzo si pronuncia suo nome di me allora contiamo siamo in turchia o lì vicino non costantinopoli quindi probabilmente io non so chi è che ci sta c'è qualcosa c'è qualcosa che ci sta sparando ma io non capisco cosa da dietro ma tu sei un ma da dove cazzo escono questi qua da dove sono usciti da dove sono usciti eh no ora devo ricaricare ma vaffa tu e la tua granata bim e va bene ma io non posso gestire due direzioni cosa sono se avessi un mitra che spara sia davanti sia dietro la situazione sta andando veramente critica ma del peggiore dei casi e allora vabbè ma va no è io scappo lol ora venimi a prendere mi sono costretto ad andare davanti a loro per scappare piano allora quello lì quel bastardo lì allora io sparo è corazzato ma non può essere è corazzato all'infinito così 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 giramo lì intondo no no giramo lì intondo dico io ecco qui questo è davvero difficile allega ah ecco perché non moriva alle gambe perché era quello con lancia fiamme ha detto cos'è che non muori qua qualcuno qualcuno di ah ecco perché non arrivi così lontano non arrivi così lontano ci arriva sì ci arriva anche 30 volte su 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 allora prima o poi dovrai crepare e quando creperai io riderò sul tuo cadastro oh dicevo ah 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 pirla ora sono finiti questi dannati d'orchi perché io non ne posso gestire quanti ne ho uccisi quanti ne ho contateli sono sicuro che più di 50 lo sono forte nobè cortile conquistato ora spariamo il bengale in aria almeno penso viva l'australia anche per quanti giornate del mondo possa essere è stato facili fanculo non mi aveva uccisi tutti a voi dice ecco in questo caso se c'era foster ci copriva il cu sempre da dietro ci ammazzano ci ammazzano ma in una volta tra davanti si e spara sto bengala però non possiamo scappare questo è un problema vabbè spara lo stesso tanto quei pierla lì ci spara ah l'abbiamo sparato lui l'ho sparato lui ah lui spara il bengala ah lui è sparato il bengala noi tanto ero mai va a fanculo la guerra non è finita ne mancano altri tre anni quindi quindi tanto vale che muoia adesso esatto e ora e ora va a finire come va a finire sempre se ci bombardano se ci bombardano siamo fottuti a meno che superman esiste si o no superman help me wow gli sconti continuarono continuarono per nove mesi ma alla fine gli ottomani ottennero la vittoria pagandola a caro prezzo Gallipoli rimase in mano loro quasi centomiglia soldati ottomani hanno perso la vita difendendo la loro patria dai superstiti sarebbero emersi dai leader capaci destinati a salare le basi della repubblica di Turchia della poi la prima volta australiani neozelandesi hanno combattuto sotto le proprie mandiere eroismo e cameratismo hanno contribuito a forgiare le rispettive identità nazionali dunque tutto il casino che abbiamo fatto è stato inutile perché se gli ottomani hanno ottenuto la cosa noi abbiamo fatto niente niente sono felice che abbiamo buttato nel cesso una missione capo di helers bene 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 continua no continua niente la faccio la prossima volta la l'ultima l'ultima e la no una missione normale pensavo fosse più lunga vabbè allora avete visto come era l'ultima missione del porta ordini ossia no io non me lo aspettavo questa nox questa volta non me lo aspettavo seriamente è stata abbastanza bella come missione dai adesso scommettiamo che quell'altro piccoletto diventerà il nuovo noi e si classico e spero che il video vi sia piaciuto e spero che continuerete a seguire il resto di questa serie e le altre serie che avverranno ciao a tutti